Allora, tattiche in chat. Questo è un topic bello ghiotto, come piace a voi. Tattiche in chat. Gabri, tu devi sapere una cosa innanzitutto, che spesso e volentieri, sotto i nostri video, avrai visto magari anche i commenti, le parole più abusate, le frasi più abusate, gli insulti più utilizzati sono queste, sono cazzate, sono tutte puttanate, non è vero niente. Noi siamo fautori, io specie perché lavoro molto in chat, nel fatto che serva una tutela. È vero. Cazzo, come in ogni cosa. Esatto, sì. Oggi e te parliamo appunto sul discorso tattiche in chat, io ne conosco una valanga, sicuramente utilizzerai anche tu. Allora, partiamo dall'inizio. Tattiche in chat innanzitutto, tu sei fidanzata ora? Sì, ora sì. Prima, comunque col tuo ragazzo all'inizio della conoscenza, utilizzavi tattiche per tutela? Assolutamente sì, perché sono una persona un po' insicura e quindi magari all'inizio non ti fidi abbastanza per dire do tutta me stessa e quindi magari aspetti un po' per rispondere al messaggio. Oppure non dici tutte le tue cose private. Ok, partiamo. Allora, quindi la risposta è sì. Sì, all'inizio sì. Ok. Secondo me non c'entri male. No. Perché uno pensa e dice tattica. Ah, cazzo, tattica. Sembra una cosa losca. Cioè tattica, dici cazzo. Una persona pensa e dice tattica è un qualcosa di naturale. No, perché? Anche per me è una cosa... Beh, all'inizio ci sta, secondo me. Tattica è una tutela. Quali sono, secondo te, le tattiche più usate all'inizio di una conoscenza? Facciamo finta. Tu dove hai conosciuto il tuo ragazzo? È il miglior amico della mia sorella. Ah, vabbè, ok. Quindi è stato abbastanza semplice come cosa. Va bene, allora, facciamo... Ma prima di lui hai avuto qualcun altro? Sì, ho avuto qualcun altro. Qualcuno ha conosciuto in chat? Instagram? Sì. Ok. Partiamo da lì. Una conoscenza su Instagram. Quali sono, secondo te, le tattiche base necessarie per poter farsi... Di approcciare. Sì, approcciare e creare poi anche una curiosità. Te ne sparo una io. Parto io e allora ti dico. La prima tattica... Dai primi messaggi non far capire che ti piace. Tanto, soprattutto. Beh, se già la conosci come ragazza... No, 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 a freddo. E se ti apri a freddo, potresti iniziare come un amico, certo, però poi... No, non parlo di amico, non parlo di amico. Io parlo di non svelare le proprie carte, come fanno tutti. Ciao, sei bellissima. No, assolutamente no. Ti cade subito questa. Questo intendo. Quindi la prima tattica, secondo me, da utilizzare è cercare di mantenere i piedi ben saldi per terra. Vero. E quindi non scoprire le carte, specie se non so niente della ragazza. Esatto. Una è questa. Due, metticela tu. Eh, non essere troppo espansivo. Perché questo non piace. Cioè, io ti prendo come una persona... Stiamo calmi. E passiva cosa intendi? Come per esempio, come hai detto tu, sei bellissima. Ok. Cioè, come primo messaggio, proprio no. Ok. Quindi i complimenti fino a loro stessi. Sì, esatto. Magari prima ti conosci, come stai, lavori, non lavori, vai a scuola. Prima una conoscenza, diciamo, in generale, poi puoi cercare di approcciare. Un'altra strategia e tutela che utilizzi tu? Eh, se mi scrive qualcuno o se mi scriveva qualcuno, magari non rispondere subito. Eh, questo è vero. Lo fanno tutte. Lo fanno assolutamente tutte. Ok. Perché? E anche qua uno ti potrebbe... Uno guarda da fuori che non sa niente di seduzione, dinamiche sociali, ti dice, che cazzate? Se a me mi interessa io rispondo subito. Beh, però, cioè, se uno ti risponde subito, magari, non lo so, ti scende, magari, non lo so. Però, magari all'inizio della conoscenza, un po' di suspense, un po' così. Assolutamente sì. Avevo detto la cosa giusta. All'inizio della conoscenza, il far vedere all'altra persona che sei lì. Però magari sei lì. Certo, ma assolutamente sì, se una persona ti interessa alla fine è così. Però sai, magari aspettare quel uno o due minuti, anche, soprattutto se la ragazza aspetta. Certo. O il ragazzo aspetta. Certo. Però non deve essere una cosa fissa. Chiaro, chiaro. Perché se no, lì, poi cadi nel ridicolo. Assolutamente. Fighissimo. Ancora un'altra? Un'altra tattica che tu utilizzi? Beh, io punterei subito a vederci, anche solo per un caffè. Subito? Abbastanza, sì. Ma se di base la ragazza non l'ho ancora incuriosita, secondo te è saggio? Chiederglielo? Beh, un po' di intraprendenza, secondo me, va bene. Anche solo, cioè, direi ti valio venire a prendere un caffè con me, ci conosciamo meglio. L'hanno fatto con te? No. Però secondo me... Ti sarebbe piaciuto? Secondo me sì. Più genuina come cosa. Se una persona non ti convince, di base, il fatto che lui ti dica dopo 5-6 messaggi, ascoltati, vedi bere un caffè, non è uno scorsi? Secondo te? Dipende dalla ragazza che trovi di fronte. Ok. Tattiche? Un'altra tattica, te la metto io, me la commenti, è il lo scrivere troppo. Specie se la ragazza scrive poco. Non funziona molto, secondo me. Perché rischi di diventare pesante e... Anche qua ti dicono... Chi lo dice? Chi lo dice? Eh, è così. Te lo dico. È così. È assolutamente così. Specialmente all'inizio di una relazione, di una conoscenza. Non devi stare... Essere troppo apprensivo, sapere cosa fai, dove sei, perché... Un'altra che ha utilizzato quel tuo ragazzo, che poi ha fatto sì che magari la conoscenza, acquisisse quella marcia in più, se ti ricordi? Quindi, allora, vabbè, sicuramente sei stata molto sul piedi di piombo. Sì. Non hai mai espresso comunque interesse? All'inizio no. Ok. Sei stata telegrafica, nei messaggi? Eh, abbastanza, dai. E lui scriveva? Sì, sì. Quindi l'ha portato in investimento, ok. Un'altra strategia che utilizzi e che utilizzavi in genere? Io ne ho una valanga. Ne ho tantissime proprio. Beh, una cosa che non è da fare è non rispondere. Cioè, per dire, magari sei iniziata una conversazione e ci sono le persone che dicono, vabbè, adesso la faccio aspettare per un'ora, due ore, tre ore. Ecco, questo secondo me non va bene. No? No. Cioè, se lei... Troppo no. No, no, io ho una cosa, per esempio, che faccio. Cioè, senti questa. Tipo, la ragazza, non so, stiamo parlando, sparisce. Se lei sparisce. Sono le tre di pomeriggio. Sparisce. Visualizza e non risponde. Attenzione. Non è che dici, ok, non visualizza neanche. Visualizza e non risponde e ricompare dopo tre, quattro ore. Quindi dalle tre ricompare alle sette di sera. Cioè, io non rispondo alle sette uno. No. Tu? No, neanch'io. Poi sono abbastanza permalosa, quindi me la prendo. Perché, secondo te? Non è giusto rispondere così in maniera rapida? Non lo so, perché magari lei lo sta facendo apposta. Per testare un po'... Lo fate? È una tattica anche questa, secondo te? Beh, può essere, sì. Per magari vedere quanto è... Per riprisurare il tuo interesse. Altra tattica dentro, quindi il fatto di... Magari scomp... Io lo faccio spesso. Scompaio, a un certo punto. Eh, però secondo me neanche quello troppo. Però sai che cosa? Scompaio quando c'è qualcosa che mi dà fastidio. Esatto, quello sì. Beh, questo lo faccio anch'io da fidanzata. Ah, ok, ottimo. Cioè, non a caso, se si sta parlando scompaio a caso, perché è controproducente. No, quello non ha senso, quello non ha senso. Però magari se mi metti, se non scrivi quanto scrivo io, se mi stai dando fastidio, se sei acida senza motivo, ti prendo e ti mollo là. Eh sì. No, quello è vero, perché va bene, magari hai fatti tuoi, sei arrabbiata per conto tuo, però perché devi introdurlo in una conoscenza che magari ti porta a buon fine. Secondo te perché è giusto avere dei tatticismi in chat? Spesso e volentieri, guarda, ti dico, io te lo dico, Gabby, sono infognato tutto il giorno in questo mondo, il 99% degli uomini pensa veramente che sia solo una questione di mera estetica, piuttosto che ricchezza, piuttosto che io devo fare quello che mi sento. Assolutamente no. Se io penso che tu sia bellissima e non ti conosco, io te lo devo dire, mi devo dichiarare, devo fare, e il dire a queste persone, ma guarda che c'è un modo magari migliore, diverso, di comunicazione, questi ti prendono per malato di mente. No, secondo me no. Perché è giusto avere dei tatticismi secondo te? Perché non conta solo la bellezza estetica o la ricchezza o qualunque altra cosa, cioè comunque tu in una ragazza puoi accendere l'interesse, anche se non sei super miliardario o se non sei bellissimo. Quindi in definitiva, cioè perché secondo te è giusto avere delle tattiche, tutto quello di cui abbiamo parlato, agli occhi di una persona che è fuori, dice cazzo, questi due sono malati, però alla fine sono cose che fanno tutti quelli che ci sanno fare. È vero, sì, magari dici no, non lo faccio, io rispondo subito, però in realtà perché? Perché secondo te è giusto tutelarsi a avere tattiche piuttosto che andare allo sbaraglio? Eh, per non prendere le porte in faccia. Per non prendere in culate. Esatto, volevo dirlo. Che guarda, io ho iniziato a sviluppare tatticismi semplicemente perché, per tutelarmi, per non prendere batoste. Eh ma è vero, alla fine... Non so te. No, però è vero, cioè non puoi fidarti subito di una persona o andare a dirgli, dirle sei bellissima, se dall'altra parte dice no, guarda non mi interessi. E cosa fai? Devi ricominciare tutto da capo. Invece devi mettere delle fondamenta, dire no, oggi gli rispondo così, mi aspetto un qualche minuto e magari va per le buone. Secondo te, ti dico, è possibile impararlo da zero questa cosa? O uno deve averla innata? Tu ce l'avevi innata? No, no, io sono permalosa, quindi questo aiuta secondo me. Aiuta, sì, anche secondo me. Aiuta. Però no, puoi impararlo. Se sei una persona che dice no, io devo farlo subito, puoi impararlo, devi stare un pochino calmo e... Anche perché io dico sempre, ragazzi, avete avuto, credo ne so, per trent'anni un metodo. Cioè voi inconsapevolmente delle tattiche ce le avete, però sono tattiche sbagliate. Cioè si impara semplicemente a tutelarsi e quindi a virare la comunicazione verso un qualcosa di vincente, io penso questo. No, è vero, assolutamente sì. Ok, ok. Io e Gabri direi che ci siamo.